Levanta e la bellezza di essere se stessi, la foto spopola sul web Levanta è una persona dall'indole artistica, non è solo la sua carriera a confermarlo, ma anche il suo profilo Instagram. Sui social la cantante condivide le sue idee, i suoi pensieri e i suoi stati d'animo, proprio come se fosse un diario personale. Sono più di 300 mila le persone che ogni giorno la seguono, mettendo l'iche e commentando le sue foto. . Molti dei post del suo profilo sono un vero insegnamento, in particolare per il pubblico più giovane che si ritrova a dover affrontare una nuova carriera, una vita complicata e dei sogni da rincorrere, così ha voluto fare Levante anche in una delle ultime foto pubblicate, in cui si mostra con i capelli davanti al viso e sottolinea la bellezza di essere se stessi. . Essere se stessi, il must di Levante. Quando le orme altrui tracciano la strada giusta, è facile seguirle. È facile anche farle proprie. . Ma non si fa così, in questa giungla bisogna avere il coraggio di tracciare ognuno le proprie orme che le imitazioni non hanno mai portato a nulla, inizia in questo modo la caption di una delle ultime foto pubblicate da Levante sul suo profilo Instagram. Lo scatto ritrae la cantante con i capelli davanti al viso, mentre con una mano si tiene la fronte. . . La star indossa un maglione scuro e si trova su uno sfondo neutro, come in molte delle sue foto. . La caption poi prosegue suggerendo che si può prendere ispirazione dal coraggio e dalle parole degli altri, ma finché non saranno vissute davvero, non si può fare un passo in avanti. . La soluzione quindi è essere se stessi, capendo prima di tutto il proprio carattere. Le canzoni di Levante sono sempre piene di ispirazione, per questo il pubblico la ama e la segue assiduamente. . . La foto ha conquistato in poco tempo il web, con oltre 38 mila like e più di 300 commenti di apprezzamento. . Le ispirazioni della cantante. Molte delle foto che pubblica su Instagram sono piene di ispirazione e riportano estratti di canzoni o testi che lei stessa ha scritto. . Una delle ultime riguarda limportanza di essere se stessi, ma poco prima Levante aveva pubblicato anche la foto di alcuni specchi che ritraevano i suoi piedi intitolandola Se non ti vedo non esisti. . Cè stata poi la foto che ritraeva i disegni e i dipinti dei suoi fan, che lei porta sempre con sé, sia in casa, sia in tour. . Unaltra foto che ha riscosso molto successo la ritraeva insieme a Luca Tommassini, in cui la cantante ringraziava tutto ciò che le è accaduto per averla portata finalmente a vedere la luce, dopo anni di lavoro nellombra. . 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